Al via sabato 23 novembre una nuova edizione di Energie Vive, la rassegna teatrale proposta dal Comune di Grottamari insieme all'Associazione Profili Artistici e AMAT con il contributo di MIC e Regione Marche che si articola in otto appuntamente in programma al Teatro delle Energie con inizio alle 21. Per parlarne abbiamo qui con noi Eugenio Olivieri e Angelica Marcucci dell'Associazione. Eugenio, quali sono i temi al centro di questa rassegna? Allora quest'anno che abbiamo aumentato di qualche spettacolo in più rispetto agli anni passati perché la stagione negli anni migliora sempre di più abbiamo cercato di chiamare compagnie che portassero argomenti chiaramente a tema sociale e per tutti. Anche argomenti a volte più intimi o emotivi che poi il teatro racconta storie quindi quello è il suo scopo principale che sono soprattutto anche di crescita personale, di rivincita, di voler un attimo analizzare quali sono le paure ma anche le speranze delle persone, delle coppie. Abbiamo molte commedie quest'anno e quindi sono argomenti che vanno a riempire i pensieri della maggior parte delle persone, non sono solo cose di nicchia. Ecco Angelica, entriamo nel merito dei vari appuntamenti. Sì, quest'anno sono otto appuntamenti. Come sempre noi ci teniamo a ospitare e a costruire dei rapporti e dei legami con le compagnie del territorio. Quindi ci sono molti artisti marchigiani, la maggior parte sono artisti marchigiani, anche artisti marchigiani che poi hanno costruito la loro carriera al di fuori delle marche. E ci teniamo ogni anno invece a aumentare anche i rapporti con le compagnie al di fuori. Quindi ospitiamo la compagnia della Creta, il gruppo della Creta che è una compagnia di Roma che ci fa il piacere di tornare anche quest'anno. Quindi una stagione marchigiana ma anche come le marche ospitano, come le marche accolgono. Anche noi accogliamo tutti i nostri amici fuori, facciamo conoscere la nostra realtà, il nostro territorio e tornano con grande piacere. Quindi per noi questo è un grande vanto. Allora Eugenio, un teatro aperto a tutti e a tutte le tasche anche. Com'è possibile acquistare il biglietto, quando e quanto costa? Allora i biglietti sono disponibili su Viva Ticket Online, quindi già la prevendita è accessibile. E poi chiaramente il giorno dello spettacolo, già un'ora prima, la biglietteria del teatro sarà aperta. I biglietti costano 10 euro, è un prezzo fisso per tutti e quindi è stato proprio il prezzo della rassegna teatrale comunale in modo tale che possa venire il più pubblico possibile. Questo è il concetto, che è appunto quello che dicevamo prima. Un teatro di condivisione è aperto a tutti, con dei prezzi che siano validi e buoni per tutti. Poiché altro, no? Allora la possibilità invece di il giorno prima venire a partecipare alla Masterclass, quella non la si va tramite il biglietto chiaramente acquistato, ma tramite proprio una richiesta direttamente a noi di profili artistici sui social o via email che si possono trovare su internet. Angelica, abbiamo ancora qualche secondo. Possiamo anticipare qualcosa di quello che vedremo? Allora, iniziamo il 23 novembre con Luna, con Giulia Merelli e Fabio Capponi al pianoforte ed è uno spettacolo con quest'attrice che ha anche un momento di interazione col pubblico e il giorno prima profili artistici organizza, quindi il venerdì 22, organizziamo un incontro, una Masterclass, un training con Giulia Merelli, aperto a tutti, agli aviattori, appassionati, per conoscere più da vicino il lavoro di Giulia Merelli, per conoscere, diciamo, per fare anche training teatrale e per ovviamente appassionarsi allo spettacolo che avverrà il giorno dopo. Quindi iniziamo il 23 novembre con questo appuntamento. Ecco, quindi Eugenio concludiamo con un invito a partecipare. Sì, allora, la cosa a cui teniamo tanto noi è questa, cioè noi siamo un'associazione che crede chiaramente e vive di questo lavoro, molto appassionati, e sappiamo benissimo quanto oggi il mandare determinati messaggi a livello poi artistico, teatrale, musicale, sia importante ma anche difficile. La stagione che noi proponiamo vuole un po' rompere questo muro, cioè vuole semplificare questo tipo di messaggio. Quindi l'invito è venite senza avere paura di venire a teatro per dire adesso cosa verrò a vedere, ma lo conosco, non sarò pronto. No, saremo tutti pronti perché il linguaggio degli attori a teatro è il linguaggio di tutti noi e di tutti i giorni. Grazie, grazie per essere stati in nostra compagnia. Buon proseguimento su Radio Azzurra.